Assessore Daldorsè emerge che anche a Milano c'è stato un aumento delle cittadinanze. Sì, siamo di fronte a un mondo che sta cambiando, quindi è una società che sempre di più si arricchisce di nuove cittadinanze e dunque di processi di integrazione reale. Questo è un fatto positivo. Spesso in questi anni abbiamo discusso di immigrazione un po' inevitabilmente solo in relazione al tema dell'accoglienza nell'emergenza, invece adesso si vede che c'è un processo in atto di integrazione più complessivo che riguarda anche i numeri della cittadinanza in crescita. C'è anche però il fatto che molti non hanno diritto ad essere riconosciuti, magari profughi, e questi richiedenti sono un po' allo sbando. È una situazione che già aveva denunciato anche lei. Emerge anche da questo? Io credo che questo sia il grande problema non affrontato dal Ministero dell'Interno. Noi lo diciamo da anni, particolarmente negli ultimi mesi, siamo di fronte a persone irregolari presenti sui nostri territori che diventano senza tetto e senza dimora. Spesso l'assurdità di questo sistema porta a far sì che persone che vanno via dai centri d'accoglienza dobbiamo poi accoglierli come senza tetto e non c'è nessun intervento nazionale ad affrontare questo risultato, questo esito. È chiaro che la responsabilità maggiore è della legge Borsifini che va, come chiede anche il sindacato, cambiata perché porta a far crescere il numero degli irregolari, però c'è anche proprio un meccanismo riguardante la gestione dell'accoglienza che va rivisto. Il Comune non può fare di più? Il Comune fa già tantissimo, non so che noi non li lasciamo per strada, cosa possiamo fare di più? Noi già li accogliamo proprio perché non vogliamo lasciare le persone per strada. Sì, intanto mettiamo a disposizione migliaia di posti letto e quindi anche di soluzioni per evitare che le persone stiano per strada e poi rispetto a tutti quelli che sono titolari di un permesso di soggiorno e che quindi hanno tutto il diritto a accedere a percorsi di integrazione, i percorsi di integrazione in atto sono numerosi, sia sul piano della formazione, l'apprendimento della lingua, le attività di socialità, di aggregazione, lo sport, tutte cose che possono far crescere, io credo, un'idea di convivenza positiva. I numeri sull'immigrazione la preoccupano comunque? Più che i numeri mi preoccupa la condizione di persone che sono in una condizione di marginalità per l'appunto, perché sono irregolari in quanto ricevono il rifiuto circa la loro richiesta d'asilo e questo è proprio il risultato del combinato disposto tra le scelte europee riguardanti gli accordi di Dublino e la presenza della loggia Borsifini in Italia. E si tratta di persone quindi che vivono ai margini, sono invisibili, ma poi se non vengono accolte nelle strutture non solo di Milano, ma di tutte le città, perché tutte devono fare la loro parte, se no sono solo poche città a fare il lavoro degli altri, diventano persone senza tetto, senza dimora e che non fanno altro che essere ancora più povere, ancora più disperate e spesso creano anche allarme alla popolazione a residenza. La polemica infatti dell'aggressione che c'è stata sui mezzi pubblici proprio l'altro giorno? Sì, poi quello è un tema proprio di sicurezza, lì va garantita, è chiaro che più ci sono persone in difficoltà, più cresce anche un problema di questo genere.